Visto le numerose richieste, oggi parliamo dell'autotune. Piccolo cenno storico, l'autotune nasce nel 1997 ideato dall'Antares Audio Technologies, un'azienda leader nel pro audio. Successivamente verrà copiato da un sacco di aziende che faranno tutti la loro versione. L'autotune non è altro che un processatore di segnale che si occupa di modificare l'intonazione di una determinata traccia audio. Esistono sia autotune un outboard come per esempio il TC Helicon, molto utilizzato dai trapper dal vivo, oppure quello proprio dell'Antares, che si trovano spesso negli studi oppure come detto prima dal vivo. L'utilizzo dell'autotune è stato abbastanza particolare nella storia della musica. All'inizio veniva utilizzato per creare dei veri e propri effetti vocali, poi è iniziato ad essere utilizzato per correggere le intonazioni di cantanti non troppo intonati e adesso è ritornato ad essere utilizzato per creare determinati effetti vocali. Non staremo qui a parlare di è giusto utilizzarlo, è sbagliato utilizzarlo, qui non andrebbe, qui andrebbe, sono cose che personalmente non mi interessano troppo. Ovviamente noi oggi parleremo degli autotune digitali. Gli autotune digitali più famosi sono per esempio l'Antares Autotune Pro, l'Antares Autotune 7 e l'Antares Autotune Evo. Come dicevo prima anche altre aziende hanno creato il loro autotune. Per esempio Cubase ha il suo integrato che si chiama VariAudio, Fruity Loops se non mi ricordo male ha il Pitcher. Inoltre la Waves, nota casa di produzione di plugin in professionali per l'audio, ha creato il suo Waves Tune. Insomma potete variare tra tantissimi tipi di autotune, dovete soltanto trovare quello che vi piace di più. Infatti parlando di digitale tutto dipende dagli algoritmi. Il vari audio di Cubase per quanto io mi trovi abbastanza bene con lui non può competere con il Waves Tune perché l'algoritmo di Waves Tune su quale si basa la lavorazione dell'audio che compie quel plugin è sicuramente superiore a quale dell'autotune di Cubase che ti danno integrato insieme al software. Se ne avete la possibilità soprattutto con le versioni demo vi consiglio di provarli e di scegliere quello che vi piace di più. Oggi ovviamente ci concentreremo sull'applicare l'autotune su una traccia vocale. Parliamo un pochino di operazioni preliminari, ossia di quello che serve prima di metterci a lavorare con l'audio. La prima cosa è chiaramente sottintesa, ossia l'autotune. Come ho detto prima dovete semplicemente scegliere quello che vi piace di più. Successivamente serve una Digital Audio Workstation detta anche DAW che è semplicisticamente un software per la gestione di materiale audio. Si usa anche per gestire il MIDI e di tanto in tanto anche per gestire il video. Molto spesso mi viene posta la domanda qual è il miglior software audio. La verità è che non esiste una risposta. Quando si parla di software professionali come Cubase, Pro Tools, Logic, Live o Fruity Loops vanno tutti bene. L'importante è che si adattino al vostro modo di lavorare. Personalmente io mi sono sempre trovato abbastanza male con Fruity Loops e abbastanza bene con Pro Tools e Cubase. Soprattutto con Cubase che è il software che utilizzo. Ma se voi vi trovate bene con Fruity Loops si può fare benissimo tutto con Fruity Loops così come se vi trovate bene con Logic se avete Mac perché Logic per PC non esiste. Pure Live o addirittura Digital Performer, Audition. Ci sono molti software a livello professionale che possono essere utilizzati ma il software non fa il beat, il software non fa il mixaggio, il software non fa il mastering. Dipende tutto da voi. L'importante è che il software sia adatto a come voi lavorate. E il metodo di lavoro di solito è abbastanza soggettivo. Certo tutti seguiamo delle linee guida ma poi ognuno ha le proprie cose c'è il menu deve essere in quel posto lì, questa funzione deve essere qui. Quindi ricapitolando alla domanda qual è il migliore software audio? Non c'è. Basta che sia uno di questi software professionali. Installando il vostro plugin sul computer, parlo per quelli che usano Windows, verrà installata in una cartella apposita un file .dll che serve alla nostra Digital Audio Workstation per leggere il nostro plugin. Di solito durante l'installazione viene piazzato in automatico nella cartella in cui sono tutti i VST plugin. Nel caso di Cubase c'è proprio una cartella che si chiama VST plugin nel quale all'interno ci sono tutti i file .dll che Cubase legge e che permettono al plugin di funzionare all'interno del nostro software audio. Nel caso questo non succede dovete proprio entrare nella cartella dove è installato il vostro autotune, prendere il vostro file .dll e metterlo in quest'altra cartella che verrà letta dal vostro software audio. Tutti i software audio professionali hanno la possibilità di impostare una o più cartelle per leggere i .dll e quindi i plugin esterni. Terza cosa per quanto riguarda le operazioni preliminari è chiaramente il beat o la base. In questo video parleremo spesso di beat perché l'esempio che vi farò vedere dopo riguarda un beat ma l'autotune come ho detto prima viene usato anche nella musica pop, nella musica rock, quindi non è limitato alla musica elettronica. Viene usato ovunque ormai. Ultima cosa una delle più importanti è chiaramente la voce. Che sia registrata da voi personalmente o che sia una voce importata da qualche parte è senza dubbio importante che sia registrata a una buona qualità, che non abbia fastidiosi rumori di fondo e che ovviamente la persona in questione non sia terribilmente stonata. In realtà con l'autotune si può modificare qualunque cosa anche le persone molto stonate possono diventare estremamente intonate, ma più sei stonato più c'è lavoro da fare. Insomma più si perde tempo. Quindi autotune, digital audio workstation o software audio, il beat e la voce. Queste sono le operazioni preliminari per quanto riguarda le cose pratiche. C'è però una parte di teoria che non va sottovalutata, ossia la teoria musicale. Infatti se non conoscete la teoria musicale e le scale soprattutto vi risulterà abbastanza complicato applicare l'autotune. Ci sono alcuni tipi di autotune che permettono di scegliere le scale, alcuni tipi di autotune invece no. Ma se non conoscete la scala del brano del beat in questione non riuscirete mai ad applicare l'autotune in modo corretto. L'orecchio a volte aiuta, ma la teoria aiuta molto di più. Per farla breve, ogni canzone si bada su una scala formata da 7 note. I principali due tipi di scale che vengono utilizzati nei beat di musica elettronica sono le scale maggiori e le scale minori. Ognuna di queste è composta da 7 note. Quindi facendo un pochino di calcoli, per 12 note ci sono 12 scale maggiori e 12 scale minori, ognuna delle quali è formata da 7 note. Le scale prendono il nome dalla nota di partenza, per esempio Do, che nel linguaggio americano viene segnato con C, e come secondo nome prende o maggiore o minore. Quindi sul Do avremo una scala maggiore o una scala minore. Queste due scale non hanno le stesse note e sono estremamente importanti per applicare l'autotune. Molto spesso parlando con producer alle prime armi o con semplicemente ragazzi che vogliono buttarsi nel mondo della produzione, vedo un sacco di ricerca di software, plugin, kick, clap, librerie eccetera, ma vedo molto poco interesse per quanto riguarda la teoria musicale, che è anche uno dei motivi per cui io consiglio sempre di studiare uno strumento se volete fare produzione. Perché vi aiuta primo a risparmiare tempo e come seconda cosa a non lavorare a caso. A caso a volte può avvenire qualcosa di bello, ma non sempre. Anzi, per quello che ho sentito io molto spesso vengono fuori di quelle cose che non hanno senso proprio. Conoscere la teoria musicale è estremamente importante tanto quanto conoscere come si utilizza un equalizzatore o un compressore. Non può mancare una di queste due informazioni. Questo è un consiglio che do sia a chi produce beat che a chi mixa. Direi che ho parlato a sufficienza, quindi spostiamoci sul software e vediamo come si applica l'autotune. Va bene, osserviamo un attimino questo progetto. Allora, le informazioni che vi posso dare su questo progetto è che è un progetto multitraccia di quelli che si trovano in rete per le persone che vogliono fare pratica di mixaggio. Non ha neanche tante tracce, c'è un'unica traccia con tutta la drum, un'unica con tutta l'e-hat, una per l'808, una per la melodia della chitarra, una per il drop, quindi per il synth del drop, due per degli effetti, un rise on impact e alla fine la nostra traccia di voce. C'è già un po' di roba processata dentro in realtà, non è un mix come viene chiamato rough, ossia senza niente, senza effetti completamente pulito. Già dentro c'è qualcosa. Ma noi non lo useremo per fare pratica di mixaggio, lo userò soltanto per mostrarvi come funziona l'autotune. Quindi abbiamo tutte le nostre otto tracce, qua sotto potete vedere il mixer. Quindi in questo caso io ho già installato il mio software audio, quindi la mia Do QBase, in questo caso versione 9.5. Ho già installato il mio autotune, abbiamo il nostro beat, quindi la terza operazione preliminare è stata fatta. Bisogna capire in che tonalità è e quindi qua va ascoltando. Fa... Tipo Do e Do. È in Fa minore. Ok. Ho la mia scala e questa cosa che ho appena fatto, se non studiate teoria, non la riuscirete mai a fare. Andiamo a sentirci quindi la nostra voce. Ok, una classica voce già compressa, già riverberata. Andiamo a vedere direttamente il vari audio. Come funziona su QBase? Basta fare doppio clic sulla traccia in questione. Vi si aprirà una finestra e qua di fianco tra i vari menu c'è vari audio. Attivandolo vi verranno fuori tutti i bei mattoncini che corrispondono all'intonazione attuale della nostra voce. Per tutta la voce abbiamo questi mattoncini e questa riga nera all'interno dei mattoncini che sono le variazioni che fa la voce in quei punti. I mattoncini infatti funzionano come se fossero delle medie, ossia in questo punto ha fatto questa nota un pochino vibrata che si muove tra il G3 e l'A3, ti faccio un unico mattoncino per dirti che probabilmente è la stessa nota con una variazione. È come se tra diversi fattori lui facesse una media. In questo caso, per quanto riguarda QBase, non è impostabile, lo fa in automatico. Però possono essere divisi. Attraverso questo pulsantino che si chiama segmenti, io posso tagliuzzarli. E già così vedete come si modifica. Questo pezzo è nato verso il basso, se invece faccio a nulla fa vedere tutto il mattoncino. Il fatto che sia modificabile è molto utile. Qui di fianco abbiamo i due parametri principali di questo autotune. Quantizza l'altezza e regola l'altezza. Come potete vedere, questa finestra si pone come una griglia. In alto abbiamo il numero di battute, 29, 30, 31 in questo caso, 32 eccetera eccetera. E qui di fianco invece abbiamo le nostre note con quello che viene chiamato piano roll, perché è un piano che è srotolato in verticale. Penso che il nome derivi da quello. La nomenclatura delle note è americana. Gli americani partono dall'A e lo chiamano A e poi ABCDEFG fino al SOL. Quindi ALA, BLC, CLDO, DR eccetera eccetera. Noi sappiamo che questo brano è in fa minore. Come potete notare, questi mattoncini non sono perfettamente allineati con le note. Vedete questa riga di grigio leggermente più scuro? Questo mattoncino è leggermente sopra. Facendo quantizza l'altezza note non fa altro che metterlo perfettamente allineato con la nota in questione. L'altro parametro invece, regola l'altezza nota, serve ad annullare la variazione. Come vedete, più aumento, più questa linea diventa piatta. Facendolo su larga scala, ossia selezionando tutto, premo CTRL A per selezionare tutto e facendo quantizza l'altezza e regola l'altezza, quello che sentirete è il classico effetto dell'autotune. In questo caso il tutto è stato estremizzato per farvi sentire la differenza. Senza è così. Come potete notare, i passaggi che l'autotune accentua di più sono quelli tra una nota e l'altra. Molto spesso quando rimane sulla stessa nota non si nota tanto, ma quando ci si sposta da una nota l'altra, soprattutto in questo passaggio qui, che fa tre note discendenti, si sentiva tantissimo l'autotune funzionava. Come regolarlo? Quello spetta a voi. Alcuni generi permettono di utilizzarlo in maniera estremamente massiva, altri generi assolutamente no. Sentiamo ora com'è il nostro brano con l'autotune inserito e com'è senza autotune. Estremizzo leggermente l'autotune per farvi sentire la differenza. Senza tutti un suona così. Come sentite, senza autotune è chiaramente molto più naturale. Inoltre, questa cantante in particolare è abbastanza intonata già per i fatti suoi. Infatti l'autotune non ha avuto troppi problemi. Tornando nella schermata dove si applica l'autotune, come possiamo vedere, non ci sono troppi problemi di intonazione, anche nel momento in cui io levo tutto. Finché si rimane entro il 20%, e qua di fianco vedete l'altezza corrente con quanto in percentuale è al di sopra della nota o al di sotto. Questo, per esempio, è un DO più 17%. Quindi vuol dire che questa cantante è abbastanza intonata. Infatti l'autotune non ha avuto problemi. Ma se la cantante fosse stata stonata, alcune note potevano essere in parti sbagliate. Come ho detto prima, questo autotune non permette di eliminare alcune note all'interno del suo algoritmo. Cosa vuol dire eliminare le note? Vuol dire semplicemente che impedisce a questi blocchi di essere intonati su alcune note. In questo caso non è possibile. Nel prossimo autotune che vi farò vedere, invece, sì. Così è come si presenta invece il Waves Tune della Waves. Come vedete ci sono un bel po' di parametri in più, un bel po' di opzioni. La prima tra tutte, una delle più importanti, è quella che vi permette di scegliere la scala nella quale i segmenti si andranno a posizionare. Noi sappiamo che questo beat è in Fa minore, Fa natural minor, ma in realtà di tanto in tanto sbuca un Mi, perché usa un altro tipo di scala che viene chiamata minor armonica. Premendo sui vari simboli di fianco le note possiamo dire che cosa succede nel caso uno dei blocchi debba finire lì sopra. In questo caso assolutamente non può finire lì sopra. Questo simbolo significa che il blocco verrà per forza spostato verso l'alto e questo per forza spostato verso il basso. Se lasciamo libero invece permettiamo al blocco di posizionarsi lì, quindi alla voce di essere intonata su questo Mi. Qual è la differenza tra questo, questo e questo? Come fa a scegliere se buttare il blocco verso l'alto o verso il basso? Negli altri due c'è la freccettina che gli dice cosa fare. In questo caso semplicemente andrà a percentuale. Cosa vuol dire? Che se il cantante canta un Mi in questa posizione che è leggermente calante, ossia che tende ad andare verso il basso, lui lo sposterà su un Mi bemolle, che è la nota libera che ha subito sotto. Se invece sarà leggermente crescente, andrà sul Fa, che è la nota libera che è leggermente sopra. Questo plug-in, a differenza dell'altro che compie un'analisi subito della traccia audio, questo ha bisogno di analizzare la traccia audio, ossia bisogna fargliela sentire, detto proprio in maniera semplicistica. Così. Come potete notare, praticamente facendogli ascoltare la nostra traccia audio, lui ha creato i suoi blocchi. Tutti questi blocchi sono già stati intonati in questo momento e qui, se apriamo un pochino lo zoom, possiamo vedere qual è la differenza su come erano prima e come erano dopo. La riga arancione dietro che si muove è come era prima e la riga verde invece è dopo essere stato corretto dall'autotune. Il vantaggio di questo autotune vi permette di poter scegliere la tolleranza dei blocchi. Che cosa è la tolleranza? È questo parametro che c'è qua in basso. Nel momento in cui selezionate tutto, aumentando la tolleranza dei blocchi, praticamente creerete blocchi più lunghi anche per note diverse, mentre invece diminuendo la tolleranza dei blocchi, come potete vedere, sono sbucati altri blocchetti in giro. Se lo levo, hop. Io in questo caso lo lascerei come è preimpostato a 20, ma non è sicuramente un parametro che potete applicare ovunque. In alcuni casi sarà più comodo avere una tolleranza molto alta, in alcuni casi invece una tolleranza molto bassa. Qui in alto abbiamo la frequenza di riferimento, sono tutte cose che di per sé non vi interessano più di tanto. Il range, baritono, tenore, eccetera, eccetera. In questo caso lasciamo un generico che va sempre bene. Sentiamo come suona quell'autotune. Come sentite non è tanto forte come era nel precedente autotune, perché i parametri che sono queste tre manopole qua sotto non sono estremizzati. Guardiamo un attimino questi parametri, ma prima selezioniamo tutti i blocchi. Se non selezionate i blocchi e muovete i parametri, non succede niente. Prima selezioniamo tutto. Il primo e il più importante è la ratio, ossia il gradiente di correzione. Questo non fa altro che dirvi in percentuale di tutto il materiale audio che c'è qua dentro quanto deve correggere l'autotune. Se mettete 0 praticamente l'autotune non sta lavorando, cioè tutto rimane originale. Se invece mettete 100%, lui vuol dire che sta correggendo tutto al 100%. Si possono creare degli effetti interessanti in realtà con alcune modifiche della ratio. Lo potete notare in realtà qua, se ingrandisco un pochino l'inquadratura, potete notare che se io vado a 0, la mia barra verde, che è praticamente il mio suono di uscita, le mie linee vocali di uscita, non si modificano, rimangono uguale all'originale. Se invece metto 100%, di colpo vengono modificate. Qui di fianco abbiamo il note transition. Serve a modificare quanto è forte l'autotune nel passaggio tra una nota e l'altra. È una cosa che prima per esempio non potevamo fare questa. Aprendo un pochino, io modifico il note transition, come vedete, 0 millisecondi vuol dire che dico passa da una nota all'altra immediatamente. E questo creerà un notevole effetto elettronico, un pochino metallico della voce. Se invece lo lascio al massimo, ossia 800 millisecondi, possiamo notare come il movimento tra una nota e l'altra è estremamente più morbido. Vi faccio sentire la differenza. Così a 0. vedete nei passaggi quelli alti, tipo tra questa nota e quest'altra, come è forte. Se invece lo lascio a 800 millisecondi, quindi gli do molto più respiro, si sentirà molto meno. Questo parametro invece che abbiamo qua di fianco, che si chiama speed, vi fa vedere quanto il nostro autotune sta modificando l'interno dei blocchi. Quindi se lo lascio a 800 millisecondi modificherà molto poco, se lo metto a 0 modificherà tantissimo. Nel momento in cui mettiamo a 0 sia lo transition che lo speed, quindi due parametri che avevamo prima, come sentite diventa molto molto elettronico, mi ricorda un pochino i Daft Punk. Come ho detto prima, come utilizzare un determinato tipo di autotune dipende unicamente da voi. Dipende quanto volete essere aggressivi e rendere la voce un po' elettronica e metallica, oppure quanto volete lasciare respiro e naturalezza alla voce in questione. Come di là abbiamo i parametri per tagliare, tipo la forbice qua, parametri per incollare. Vi faccio vedere un ultimo autotune che si chiama Evo e è dall'Antares. Cosa succede se io metto in Do maggiore? Oltre che l'autotune dovendo lavorare tantissimo inizierà a far sembrare la voce un pochino ridicola, tra virgolette, in questo caso come potete notare abbiamo dei seri problemi di intonazione, perché non è impostato nella scala esatta in cui è impostato il brano. Se noi andiamo a modificare questa cosa e mettiamo minore con un bellissimo fa, ritorna a essere intonato con il nostro beat in questione e anche la voce fa meno fatica ad adattarsi all'interno dell'autotune. Il retune speed ci permette di dire quanto vogliamo che sia aggressivo. Più sto morbido meno sarà aggressivo. Se teniamo una scala cromatica come impostazione possiamo vedere le note che sta cantando il nostro cantante. E qua in mezzo abbiamo la possibilità di decidere quali note rimuovere e quali note bypassare. Qua è la differenza tra bypass e remove. Il bypass fa in modo che ogni volta che un cantante canta su quella nota, quella nota non verrà autotunnata. Il remove invece impedisce proprio che il nostro blocco sia intonato su quella nota. Praticamente il remove sposta la nota in base a dove la vogliamo mettere, mentre invece il bypass è come se si spegnesse nel momento in cui il nostro cantante canta su quell'altezza. Vi faccio vedere eliminando il do cosa succede, facendo remove. Ogni volta che la voce della ragazza si mette sul do, l'autotune impazzisce perché non sa dove mandarla. Se invece facessi bypass suonerebbe così. Ogni volta che tocca il do lo lascia un pochino più morbido, ci sono più vibrati, la voce è più naturale. Con lo humanize, inoltre, con questo parametro possiamo, appunto, come lo dice lo stesso, umanizzare un pochino di più il nostro autotune, per non renderlo estremamente elettronico. Bene, spero di essere stato chiaro e spero che vi sia servito tutto questo. Mi raccomando, continuate a produrre, a registrare e a mixare e noi ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!